Volevamo dire ciao a Rita, ancora una volta, insieme, nel silenzio, nella preghiera, nella riflessione, anche nel canto, nella musica. E c'è qui un artista, un amico, che ha scritto delle grandi preghiere, delle grandi riflessioni, delle grandi canzoni. E apriremo e chiuderemo questo momento grande con cui, con forza, diciamo ciao, ciao a Rita, proprio con due sue grandi riflessioni, nella musica e nel canto. E' un dono, a Rita, e di un modo di sentire vicino lei, in questo momento, quell'impegno di giustizia, di legalità, di solidarietà, che ci rende qui, in questo momento, a sei anni dalla sua morte. Rita Martinez, ci aiuta in questa riflessione, questa è preghiera. Questo nostro ciao a Rita è un ciao solitaneo, è un ciao molto sincero, e devo dire che personalmente sono emozionato, perché sono contento di vedere comunque gente. E ritengo che sia una risposta importante. Questa canzone preghiera, che dedichiamo a Rita, la facciamo perché riteniamo che ci sia un grande bisogno d'amore, una riconquista dei grandi valori. E così, riteniamo che questa figura, di questa ragazza di Pantana, debba sicuramente servire per un'azione attiva e contro di tutti quei valori che il tuo mondo sta per te. Preghiera. 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 Dall'innovio, quelli che toccano il cuore, quelli che non pregano, ma questa parte del cielo è sempre di un sogno d'amore. Per la gente che vive questa, pagando senza fame, sono da una sala che mi savi, che non c'è di te. Abbiamo bisogno di te, per me quella di farlo, che abbiamo perso un po' di te, che non sappiamo che farlo. Facciamo un giro in città e cercare la vita, mentre noi ci spieghiamo di te, che non la vita per noi. E adesso te lo sai di credere, di vivere, la nostra vita. E la sua magia è divina e bella, su quella croce si c'è la sottica, c'è la sottica. Una preghiera a chi vogliamo dedicare, una preghiera a sorridere, per quelle piccole, più gambe, più gambe, più gambe, più gambe. Si dà al mare, una preghiera a sorridere, per quelle piccole, più gambe, più gambe, più gambe, più gambe, più gambe, più gambe. Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.